Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, buongiorno anche a chi ci segue in streaming Nettuno TV.tv Torniamo ancora sulla tema dei vaccini perché ovviamente cresce da un lato la preoccupazione dei genitori domani di fatto tutto il settore scolastico bolognese andrà a riaprire per cui molti genitori chiedono ancora notizie, chiedono informazioni Allora diamo qualche numero intanto, in Emilia Romagna il 92,4% dei bambini nati dal 2012 al 2016 è in regola con quelle che sono le 9 vaccinazioni obbligatorie e gratuite, la varicella è obbligatoria per i nati dal 2017 che sono previste come detto dalla legge per poter frequentare le scuole di infanzia, nidi e materne 171.660 bimbi su un totale di 185.000 hanno completato l'intero ciclo vaccinale e i richiami stabiliti sono invece circa 14.000, vuol dire l'8% i bambini richiamati per concludere questo ciclo delle vaccinazioni il punto è stato fatto in una nota della giunta regionale anche per far capire che di fatto la situazione in regione è più che positiva ma ieri abbiamo fatto il punto con il dirigente dell'ufficio scolastico regionale Stefano Versari anche per capire effettivamente che come dire se chi arriva a scuola con un bambino che non è vaccinato viene rimandato a casa non è così, ma andiamola a sentire nell'intervista di Michela Conficoni i vaccini sono obbligatori per tutti nella scuola di infanzia e nella scuola dell'obbligo il Parlamento ha previsto che nella scuola dell'obbligo, essendo appunto scuola dell'obbligo gli studenti, le famiglie possano comunque mandare gli studenti a scuola ma siano sanzionati amministrativamente con una sanzione fino a 500 euro per la scuola dell'infanzia, non essendo una scuola dell'obbligo il Parlamento ha previsto sia la sanzione di 500 euro fino a 500 euro sia l'esclusione dalla frequenza dell'asilo della scuola dell'infanzia dove la famiglia non abbia fatto nessuno degli adempimenti che sono previsti presentare il certificato di vaccinazione oppure fare una prenotazione per un vaccino oppure attestare di avere già avuto la malattia ci sono una serie di attestazioni, se uno non presenta nulla e quindi non presenta neanche una dichiarazione sostitutiva di questi provvedimenti, non può entrare a scuola Ma se i bambini si presenteranno a scuola, come si fa a impedirne l'accesso? La scuola è un luogo educativo e i dirigenti scolastici e i professori non hanno una funzione di polizia Quindi la loro funzione quale sarà? Spiegare alle famiglie che l'impedimento all'accesso è per il bene dei loro figli e per il bene comune, non è una limitazione però ovviamente non eserciteranno azioni di forza contro queste famiglie laddove vi fossero situazioni di difficoltà ho suggerito di evitare ogni contrasto, ogni situazione conflittuale ma in questo caso di predisporre un'ulteriore segnalazione laddove comunque qualcuno entri nonostante il divieto all'Asla e al mio ufficio perché questo mi consentirà il raccordo con l'autorità giudiziaria Torniamo a parlare di cronaca sarà sentito a breve dagli investigatori il pakistano, l'ex mediatore culturale di una cooperativa bolognese indagato dalla procura di Bologna per istigazione a delinquere dopo il post su Facebook all'indomani delle violenze sessuali di Rimini lo stupere peggio solo all'inizio questo era il post che avevamo messo allo stagliere è stato infatti notificato l'invito a comparire sulla vicenda aveva aperto un fascicolo il procuratore aggiunto Walter Giovannini, coordinatore del pool Fasce Deboli delegando indagini alla squadra mobile Torniamo in qualche modo a scuola perché nelle scuole serpeggia l'ideologia gender il comitato difendiamo i nostri figli invita i genitori ad avvalersi del consenso informato per le attività che vengono proposte ai loro figli a spiegarlo ai nostri microfoni è Davide Botti del comitato difendiamo come detti i nostri figli Family Day intervistato da Michela Confinconi Sentiamo Noi diciamo, cercando di essere precisi che il 40% delle scuole recepisce la normativa statale favorevole all'ideologia genderista il 37% delle scuole quindi 40 più 37 ha indizi di ricezione Ma se si risponde ad una norma statale che cosa contestate? Noi contestiamo la norma statale Nelle scuole è necessario che le famiglie si avvalgano dello strumento del consenso informato preventivo è un modulo molto semplice scaricabile dal nostro sito ufficiale nazionale che è difendiamoinostrifigli.it attraverso il quale la famiglia chiede alla scuola di essere informata preventivamente in modo dettagliato sui progetti che si intendono svolgere Si può rifiutare nel caso non si condivida il progetto educativo? Tipicamente sono attività extracurricolari in alcuni casi, lo dico per le famiglie qualora queste attività e questi progetti vengano svolte durante l'orario scolastico occorre chiedere un insegnante per un'educazione alternativa esattamente come fanno coloro che rifiutano l'insegnamento della religione cattolica Ed è stato il gruppo di Forza Italia a portare alla luce questa vicenda e offrire questo spazio andiamo allora a sentire il capogruppo in regione di Forza Italia, Galeazio Bignani Diciamo no perché riteniamo che sia necessario che le famiglie siano poste nelle condizioni di scegliere a fronte di un'offerta formativa chiara in cui però viene espressamente detto che si intendono sottoporre i propri figli a una formazione gender ricordiamo il gender è un'ideologia in base alla quale non vi è un dato biologico come invece noi riteniamo sia in base all'orientamento sessuale ciascuno di noi ma sia un dato culturale quindi sia alterabile ecco, molte scuole si avventurano in questo percorso secondo noi pericoloso cercando di sottrarre alle famiglie un ruolo di guida che invece è naturalmente a loro dedito Voi avevate già contestato degli episodi concreti di ideologia gender anche alle scuole elementari Accade che tante scuole non dicono ai genitori che intendono presentare ai figli questa ideologia gender i genitori quindi neanche lo sanno e poi si trovano magari a scoprire che vi è stato a volte neanche quello questa formazione dei propri figli ed è per questo che noi riteniamo che ognuno è libero di fare quello che vuole non precludiamo alcunché ma deve esserci un consenso e pertanto i genitori devono esprimere un consenso espresso, informato a dire va bene i nostri figli possono partecipare altrimenti si cerca surrettiziamente di far entrare queste ideologie nelle famiglie Ci sono stati già esempi gravi? È già accaduto in provincia di Bologna nell'Unione Reno-Galliera che vi fossero degli spettacoli teatrali in cui ad esempio c'era un bimbo che lunedì era maschio il martedì era femmine, mercoledì non si sa cosa ed è chiaro che questo sottoposto dei bambini elementari non sempre è percepito uno spettacolo di questo tipo non lo capisco io che ho 40 anni, immaginiamoci bambini pochi anni E adesso cambiamo pagina questa mattina oggi esaltazione della Santa Croce la divina liturgia celebrata dal patriarca Bartolomeo I, arcivesco di Costantinopoli in incattedrale di San Pietro una cattedrale che è stata in qualche modo un pochino, diciamo è stato creato un ambiente, chiamiamolo così, ad hoc per questa solenne celebrazione a cui è assistito il clero bolognese guidato dall'arcivesco Monsignor Matteo Zuppi allora andiamo a sentire tutta questa divina liturgia l'abbiamo trasmessa in diretta quasi tre ore di diretta televisiva andiamo a sentire un passaggio dell'intervento proprio del patriarca Ringraziamo il Signore misericordioso e buono che ci ha concesso quest'anno di festeggiare con voi amatissimo fratello arcivescovo metropolita di Bologna Matteo col vostro clero e con il vostro e nostro popolo l'antichissima festa della esaltazione della santa e vivificante croce la nostra gioia tuttavia non può essere completa perché non possiamo ancora partecipare all'unico calice e all'unico corpo del Signore che è stato offerto e che si è offerto oggi in questa magnifica chiesa di San Pietro la chiesa della vostra cattedra ma come dice il Salmo davanti a te è tutto il mio desiderio e il mio gemito non ti è rimasto nascosto abbiamo invece la possibilità di pregare assieme di sentirci in comunione tra noi e di essere testimoni dell'amore relazionale della Santissima Trinità festeggiamo insieme infatti questa antichissima festa cristologica La cronaca un uomo di 40 anni è stato denunciato dalla polizia per maltrattamento in famiglia a seguito di una lite avvenuta ieri pomeriggio intorno alle 17 in una strada del quartiere San Donato il litigio è nato in casa e sarebbe proseguito poi in strada al termine dell'alterco una donna è comparsa assieme alla figlia 13 anni in un bar del Rione chiedendo aiuto giunte sul posto le volanti la madre una residente di origine palermitana di 47 anni ha raccontato di essere fuggita dall'ex compagno che è tornato in casa di lei si era reso protagonista di violenze e intimidazioni secondo quanto ricostruiti i due non si vedevano più da qualche mese ma lui tossicodipendente approfittava della scusa di tornare a prendere le sue cose per sottrarre beni alla casa allo scopo di rivenderli per procurarselo stupefacente e adesso vi presentiamo uno dei due ospiti di questa nostra edizione del telegiornale si tratta di Federico Monti del mare termale bolognese che saluto Federico benvenuto buongiorno il pensiero dell'arte incontri bolognesi per riprogettare il parco della montagnola che sappiamo anche recentemente è stato oggetto e continua a essere oggetto anche di forti intervento delle forze dell'ordine perché la situazione è davvero un po' delicato si può con l'arte fare qualcosa Federico Monti? noi pensiamo di sì abbiamo raccolto la sfida del comune di Bologna in qualche modo che ha voluto realizzare un bando per riqualificare quell'area partendo dalle tre stazioni che sono la stazione ferroviaria quella della velo stazione quindi quella delle biciclette e l'autostazione e anche tutta l'area della montagnola che è un'area centrale della città di Bologna è anche l'area oltretutto dove abbiamo un'attività quindi l'antagic le termine di San Petronio e la sede centrale del mare termale bolognese oltretutto io ci abito anche e quindi siamo molto affezionati a quell'area lì nel contempo abbiamo attivato un'iniziativa che dovrebbe diventare quantomeno biennale sull'arte dove vorremmo fare degli incontri biennali dove si parla dell'arte contemporanea e quindi abbiamo messo insieme le due cose e quest'anno che sarà la prima edizione del pensiero dell'arte vogliamo dedicarla a raccogliere tutte le idee che possano essere utili per il bando e per la valorizzazione di questa iniziativa allora c'è un primo momento potremmo dire così pubblico dove è diciamo così aperto anche al pubblico che è quello di venerdì di domani in Cappella Farnese con il professor Cresti dove fate un po' il punto disegnate un po' questo percorso sì noi proprio perché pensiamo che dall'arte ci sia la possibilità di partire per rigenerare la città il professor Cresti presenterà una serie di artisti alcuni anche viventi quali Doig Underwasser e altri che possono dare veramente degli spunti che nella loro vita artistica si sono dedicati a valorizzare l'urbanizzazione quindi questo diciamo domani due momenti uno dalle dalle quindici dalle quindici alle diciotte in Cappella Farnese ci sarà questo evento aperto al pubblico poi sabato e domenica ecco che succede perché poi la regia ci sta riproponendo anche alcune immagini poi della sala convegni della struttura sul villaggio della salute verranno noi ospitiamo dieci persone qualificate artisti architetti laureati all'accademia che lavoreranno effettivamente per due giorni studieranno una proposta in modo da fare un carteggio che presenteremo comunque al comune che magari potrà portare qualche buona idea lo speriamo tutti noi ci impegniamo e poi lo speriamo si può fare qualcosa bisogna fare qualcosa dobbiamo fare qualcosa e credo che questo sistema un po' trasversale possa portare anche a buoni frutti quanta rabbia dopo che diciamo aver costruito un'attività imprenditoriale così importante sanitaria e addirittura viverci vedere questa zona così degradata io ci andavo da piccolo ora ci porto i miei figli ci lavoro e ci tengo anche personalmente che sia valorizzata c'è un po' più di paura adesso a portare i figli o no? sicuramente va bene grazie a Federico Monti davvero buon lavoro appuntamento domani capa la Farnese dalle 15 alle 18 per questo progetto il pensiero dell'arte poi dopo sicuramente il fine settimana al villaggio poi avremo modo di riparlarne per vedere cosa è emerso qual è il percorso che ne è emerso allora andiamo avanti andiamo avanti con il nostro giornale adesso andiamo ad occuparci invece di una iniziativa che è quella di Pane e Carlino che torna per il nono anno consecutivo è un'iniziativa che partirà il 19 di settembre che vede coinvolte l'associazione dei panificatori da una parte e dall'altra invece il resto del Carlino andiamo a sentire le parole del presidente Thomas Giardini presidente dei panificatori sono già nove anni che viene svolta anche quest'anno entusiasti perché ci sarà anche una novità online da parte del resto del Carlino dal 19 settembre al 12 novembre che acquisterà il quotidiano di Bologna ritagliando il coupon avrà diritto nelle nostre aziende aderenti che sono 110 su una spesa minima di 5 euro a un regalo di pacco di pasta da mezzo chilo e un barattolo di pomodoro un marketing sociale che già da tanti anni va avanti la gente è entusiasta e non vede l'ora a chi inizia quindi a settembre sono già lì che fremono quando è che inizia quando è che inizia e noi iniziamo la scelta di andare insieme anche al resto del Carlino è importante anche proprio per Bologna per far conoscere queste iniziative a Bologna sicuramente sì il Carlino è il quotidiano di Bologna il più venduto in assoluto quindi il più letto e noi da tanti anni lo affianchiamo e lui ci affianca in queste iniziative insieme a ConfCommercio Ascom siamo convinti che i giovani siano più sulla parte online sulla parte web e quindi abbiamo fatto l'iniziativa insieme a loro che porterà i vincitori che manderanno foto riguardanti pane e prodotti da forno hanno aggiornato insieme a noi nei nostri laboratori è importante anche far vedere come viene prodotto il pane come vengono prodotti determinati prodotti alimentari scusate il gioco di parole soprattutto anche ai giovani che forse ogni tanto lo danno un po' per scontato sicuramente sì i giovani il nostro problema in questi ultimi anni è il cambio generazionale non è un lavoro che i giovani lo fanno probabilmente per il sacrificio per la fatica però non è un mestiere la nostra è un'arte produrre tutte le notti produrre per le persone Francesca Bolognini ha sentito anche il direttore marketing del resto del Carlino Deborah Peroni proprio su questa bella iniziativa pane e Carlino andiamo a sentire anche lei sui prodotti artigianali sui valori dell'alimentazione alimentazione sana e in particolare su una filiera controllata e garantita dall'associazione proprio perché anche il Carlino ci tiene in modo particolare su Bologna a rimarcare quelli che sono i valori della tradizione che è sempre stato uno dei cavalli di battaglia dei giornali locali del gruppo e in particolare per il resto del Carlino esattamente su Bologna parliamo anche proprio di giovani per quanto riguarda l'iniziativa questa volta anche del web ce la spiega un attimo Beh, era scontato che dovessimo parlare a tutti quanti perché è un'iniziativa orientabile a qualsiasi genere di gusto o di preferenza anche dal punto di vista culinario e quindi abbiamo affiancato all'iniziativa normale di ritaglio del coupon sul giornale quindi per ottenere lo sconto anche una sorta di piccolo concorso sia per grandi sia per bambini in modo tale che i nostri lettori possano inviare al resto del carlino.it ci sarà la visibilità dell'iniziativa sul portale cittadino delle foto che per loro rappresentano appunto l'idea di pane e carlino pane o prodotti da forno speriamo di ricevere tante adesioni per poter appunto scegliere quelli che sono le 20 iniziative o le 20 immagini più carine che poi sceglierà una giuria composta sicuramente da me e da dottor Giardini ai quali verrà offerto un corso di panificazione presso l'associazione perché ci piace proprio l'idea che anche loro comincino a mettere le mani in pasta e a provare cosa significa lavorare un prodotto che viene dato così tanto per scontato ma che ha tutto un procedimento a regola d'arte molto complesso Torniamo alla cronaca è riuscito a rubare 250 euro di cosmetici ed è fuggito è accaduto ieri alle 18.30 circa nella storica farmacia Zarri di Viogobassia tra le allarme a 113 è stato lo stesso farmacista che ha però inseguito il ladro e fermato poco più tardi in via indipendenza si tratta di un rumeno di 35 anni con diversi precedenti nella fuga aveva nascosto la borsa schermata con la refurtiva dietro la colonna del portico è stata comunque recuperata grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza quindi diciamo così un perfetto intervento civico e poliziesco adesso parliamo invece della festa dei bambini quarantesima edizione il mio tesoro va in scena ai giardini Lunetta Gamberini di Via degli Orti a Bologna questo fine settimana 16 e 17 settembre da questa sera comincerà l'allestimento allora in studio accanto a me c'è Benedetto Linguerni che saluto benvenuto Benedetto allora festa dei bambini quarantesima edizione una due giorni potremmo dire intensissima tra l'altro inizia col saluto proprio del nostro arcivesco intanto vi faccio vedere anche la locandina Benedetto allora sì siamo molto contenti grazie dell'invito e di essere qui a presentarvi la quarantesima edizione per cui diciamo un evento che a Bologna ha la sua storia e dopo 40 anni ancora è presente ancora coinvolge tante scuole tanti bambini e tante famiglie nasce appunto come festa di Maria Bambina e poi negli anni è diventato appunto la festa dei bambini e vuole essere il momento in cui tutti quanti quelli che nella nostra città si occupano di educazione e formazione per bambini e ragazzi si danno appuntamento per fare un attimo sintesi e per augurarsi un buon inizio ecco un buon inizio perché ormai ci siamo eh sì esattamente allora dicevamo alle 15 c'è l'arcivescovo che inaugura il tutto e poi c'è un incontro diciamo quello un po' principale sì allora quest'anno il programma appunto è molto fitto perché sono due giorni sabato e domenica e inizierà il tutto il sabato alle 15 con l'arrivo del vescovo del vescovo Zuppi che darà la sua benedizione dopodiché tutti quanti i giorni sono pensati appunto per le famiglie per cui ci saranno sempre eh laboratori o attività per i ragazzi per i bambini da per tutte quante l'età il momento centrale sarà l'incontro di sabato delle 18.30 che sarà appunto l'incontro dal titolo qual è il tuo tesoro dove abbiamo invitato tre ospiti che ci racconteranno appunto la loro storia la loro esperienza e proveremo a capire appunto assieme a loro qual è il nostro tesoro e questo è appunto è diciamo quello su cui ci sfidiamo e sfidiamo tutti quanti nel partire tenendo veramente a cuore quello che che per ciascuno di noi è importante ecco allora dicevo intanto stanno appunto scorrendo anche alcune immagini di quella che è l'edizione dell'anno scorso diciamo appunto per le famiglie ma c'è un'altra caratteristica della festa dei bambini all'inizio estate è che è fatta da volontari assolutamente sì infatti già adesso diciamo i nostri volontari sono al parco Lunetta Gamberini via degli orti per il montaggio perché diciamo che appunto è una qualcosa di imponente come struttura come impegno e come sforzo per cui sono tutti volontari ringraziamo tantissimo gli sponsor che ogni anno ci sostengono in questo infatti e poi ci saranno anche attività durante la festa per appunto sostenere quello che è le spese i costi di allestimento e di realizzazione quest'anno avremo una ricchissima pesca dove sarà possibile con solo un euro acquistare un biglietto per vincere un premio e allo stesso tempo per sostenere la festa ci sarà la gastronomia aperta sia a pranzo che a cena per cui diciamo è anche un'occasione per passare una giornata piacevole è vero che anche la gastronomia sono mamme papà dei bambini assolutamente infatti abbiamo dei team che ormai negli anni si sono diciamo rodati e specializzati e sono molto molto bravi diciamo e molto precisi e seguono una tradizione ormai che appunto dopo 40 anni inizia ad avere la sua importanza per cui sì sarà una cucina molto semplice ci saranno varie proposte di gastronomia cucina tipica dell'Emiliano Romagnola ci sarà una cooperativa sociale che fa la pasta fresca ci sarà un altro punto dove si potranno acquistare hot dog patatine e altri snack per cui diciamo che è pensato per accogliere le famiglie le persone i visitatori per un'intera giornata allora tutto chiaramente aperto tutto aperto naturalmente libero non c'è biglietto d'ingresso siamo in un parco facilmente raggiungibile con tutti quanti i mezzi quindi l'ingresso intanto Luetta Gamberini è vasta da via degli orti l'ingresso da via degli orti ma si può entrare anche dagli altri accessi del parco poi vedrete del movimento sì esatto diciamo che occupiamo praticamente tutto quanto il parco per cui sarà facilmente riconoscibile va bene grazie allora Benedetto Linguerri buon lavoro poi porteremo ovviamente anche le nostre telecamere in quelle due giornate noi adesso parliamo invece di sport perché ieri c'è stato il rinnovo della partnership tra il Bologna Calcio e la Granarolo per quanto riguarda il settore di vaio i giovani del Bologna Calcio ma c'è un tema che è quello che sta a cuore a molti che è lo stadio capire cosa sta succedendo perché dopo che si era partiti un po' velocemente sui lavori e quant'altro adesso c'è una nuova legge insomma allora ieri la nostra Francesca Bolognini ha chiesto all'amministratore delegato del Bologna Calcio Claudio Fenucci qual è la situazione sentiamola nelle prossime settimane avremo una serie di incontri che saranno utili per capire il percorso amministrativo che dovremo seguire anche alla luce delle modifiche sulla legge e sugli stadi che ripeto è una legge migliorativa rispetto una modifica migliorativa rispetto al presente ma che ha introdotto degli elementi di incertezza che dobbiamo valutare insieme al comune ma per adesso ovviamente l'importante è incontrare il comune e condividere un percorso con loro perché nel momento in cui si attirano intorno allo stadio degli investimenti che siano espressione del nostro azionista o di terzi soprattutto per quanto riguarda le aree compensative la certezza del percorso amministrativo è essenziale poi ovviamente abbiamo parlato con Fenucci anche un po' di stagione questo inizio di stagione andiamo a sentire cosa ci ha risposto ancora Francesca Bolognini sul fatto prettamente tecnico ovviamente vi rimando a Roberto Donadoni sul fatto della prestazione per quello che ho visto io sono state tre buone prestazioni anche col Torino meritavamo forse di più rispetto a quello che il risultato finale ha detto e con Napoli non siamo riusciti ad andare in vantaggio e questo poi alla fine con una squadra come Napoli può essere un problema perché ha una capacità offensiva mostruosa e l'ha dimostrato facendo tre gol nel finale ma il risultato ripeto non riflette l'andamento della partita Firenze è un'altra tappa difficile una squadra che si è rinnovata molto ma comunque con innessi di qualità sarà un bel test sicuramente era un avvio di campionato non facile però lo stiamo affrontando secondo me con l'atteggiamento giusto e dobbiamo tornare alla cronaca perché c'è proprio un lancio di agenzia battuta in questo istante che riguarda ai miei ancora il parco della Montagnola l'abbiamo parlato prima anche con Federico Monti con questa bella iniziativa il pensiero dell'arte perché pensate due stranieri un gambiano e un guineano sono stati arrestati questa mattina a Bologna dalla polizia di stato per rapina ai danni di una ragazza nigeriana di 20 anni proprio all'interno del parco della Montagnola la giovane era insieme al padre quando è stata aggredita dai due che hanno tentato di portarle via il telefono cellulare lei ha reagito i rapinatori hanno malmenato sia lei che il genitore la ragazza è stata portata all'ospedale Sant'Orsola le condizioni fortunatamente non sono gravi i due invece sono stati bloccati dai poliziotti allertati da una segnalazione davvero non c'è pace per il parco della Montagnola ma speriamo davvero che si arrivi presto a risolvere anche questo problema bene era l'ultima notizia di questa nostra edizione vi ricordiamo alle 18 oggi Nettuno Sport vi ricordo che alle 19.30 verrà inaugurato il nuovo store del Bologna F5 in collaborazione con Macron sotto la Galleria Cavure saremo ovviamente presenti con le nostre telecamere l'edizione del TG alle 19.15 e grazie al coordinamento tecnico affidato a Mario Giuliante